Zurel, che fa parte della Siconella Holding International, si occupa della distribuzione, dentro e fuori l'Europa, ogni giorno, di confezioni di fiori decisi olandesi e provenienti da altri paesi. I punti forza della nostra azienda sono la professionalità, confezioni su misura e servizio personalizzato. Vi offriamo un negozio tutto in uno. Questo significa che potete ordinare presso di noi qualsiasi tipo di fiore. E noi ci occuperemo di tutto, dalla fonte fino alla consegna. I nostri gestori esperti rappresentano la nostra forza e vi aiutano nella scelta e nell'ordine dei nostri prodotti. Si occupano di assistere i clienti, di soddisfare le loro esigenze e questo fa sì che il servizio sia personalizzato. L'esperienza maturata negli anni e lo studio delle necessità del cliente ci rendono altamente competitivi sul mercato. Potete ordinare i fiori via telefono, fax, e-mail o nel nostro negozio online. In quest'ultimo è possibile acquistare 24 ore su 24. Zurel è stata la prima azienda del settore e anche nell'utilizzo del negozio online siamo all'avanguardia. Vi si possono trovare ogni giorno nuove offerte, tra cui quelle del giorno, e vedere cosa possiamo offrire di unico, il tutto comprensivo di foto. Queste foto, dal vivo, rappresentano i prodotti da noi offerti nella loro realtà e sono state scattate in studi specializzati durante servizi organizzati apposta. I nostri operatori e-commerce aiutano i clienti ad orientarsi nel negozio online, cosicché possano ordinare i prodotti con estrema sicurezza. Da Zurel i clienti ordinano tutto l'anno e possono scegliere tra un vasto assortimento dalla qualità costante e ottimale. Grazie alla nostra posizione nel mercato e alla nostra rete internazionale ci riforniamo presso spacci e vivai in tutto il mondo. Zurel mantiene contatti con vivai olandesi e internazionali e con gli stessi collabora a nuovi prodotti, che sono poi pronti da vendere al cliente. Se deciderete di acquistare da Zurel, troverete un vasto assortimento di fiori da ordinare per tutto l'anno, il tutto ad un ottimo rapporto qualità-prezzo. Non appena i fiori da noi acquistati arrivano, vengono sottoposti a controlli ferrati. Anche in fasi successive, la qualità viene monitorata con costanza. Ecco perché il marchio Florimark Trade Certificate è completamente meritato. Garantiamo dunque fiori decisi sempre freschi e di qualità. Grazie a decenni di esperienza e a più di 100 anni nel campo della vendita di fiori decisi, Zurel garantisce l'offerta di prodotti di alta qualità e in condizioni ottimali ai propri clienti. I prodotti arrivano a noi direttamente da spacci e vivai. Il sistema di trasporti interno per i fiori è ben articolato e veloce. Quindi i nostri prodotti sono pronti per il trasporto. Per cui offriamo le migliori condizioni che ti puoi aspettare. Ci occupiamo anche del confezionamento, cosicché il cliente può rivendere a sua volta subito il prodotto. Grazie alla nostra rete di trasporti garantiamo che i prodotti arrivino in tempo come richiesto dal cliente. Zurel, oltre 100 anni di passione e impegno.